ciao a tutti oggi mi trovo nel fanes a 2300 metri di quota la mia meta dovrebbe essere quella prima che cambi il tempo faccio questo filmato questo è il monte castello al di là del monte castello c'è la val travenanzes e poi le tofane c'è un po di nero che avanza e quindi ne approfitto fanes è un bellissimo parco naturale questo è il gruppo nelle conturine se la varella una ferrata che porta le conturine sa tra più di 3.000 metri periodo della prima guerra mondiale con le scalette ancora in legno qual è la strada che porta al rifugio fanes e la varella questo è col becchei al di là c'è il rifugio rastua qui siamo alla croda rossa da dove sono arrivato se ce la faccio a dopo grazie